Tutorial Hellsit Lean One Leg, esercizio propedeutico per lo sviluppo della Hellsit alle parallele, allena soprattutto addome e quadricipiti. Utilizzare una coppia di parallezza a altezza massima da terra, circa 30 cm. Mani larghezza poco più delle spalle, presa neutra con pollice in opposizione, spalle depresse e braccia tese con gomiti in blocco articolare. Un piede poggia a terra con il tallone e l'altra gamba viene sollevata a squadra con piede puntato. Mantenere l'angolo retto tra cosce e tronco e quest'ultimo in linea verticale con le braccia. Evitare di avanzare o di indietreggiare con il bacino. Eseguire prima con una gamba, poi subito con l'altra. Questa sequenza viene considerata una serie. Evitare di andare in apnea e controllare la respirazione.